Elezioni comunali di Fratta, gli appelli dei quattro candidati. Partiamo con Damiano Cuccolo, lista numero 4, Lega Nord. Perché votare la sua lista, Cuccolo? Perché è ora di un rinnovamento, siamo un gruppo di giovani, sono candidato sindaco per Lega Nord, Fratta Polesino. Secondo me votarmi vuol dire cambiamento e dare voce a chi deve dare voce, che è il Paese praticamente.